Ciao, questo è un purpurì delle nostre letterine lavoretto per la festa della mamma, ma non solo. Iscriviti ai nostri canali Idee Art, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok. Clicca in alto per vedere ogni singolo tutorial. Grazie a tutti. Scarica le nostre schede gratuitamente. Basta andare su YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lavoretti semplici ma ad effetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco come scaricare le nostre schede da YouTube. Iscriviti ai nostri canali per non perdere i prossimi tutorial. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.